Buongiorno, scusate in ritardo, oggi una zuppa molto veloce perché ci sono poche notizie e comunque soprattutto c'è molta fetta. Un fico in movimento, questo è quello che sta succedendo oggi, la cosa che mi diverte di più rispetto alle consultazioni, il suo mandato è farle soltanto con il PD e Salvini è innervosito, il titolo del Corriere della Sera forse è il più corretto, Ira di Salvini, Di Maio lui ha chiuso. La cosa che forse oggi è più divertente è la foto e il commento di Rizzo sulla Repubblica, la foto di Fico che sale a piedi al Quirinale e intorno a lui oltre a un carabiniere o un poliziotto con la maglietta con scritto davanti Guess e i walkie talkie, allora insomma se stai col Presidente della terza carica dello Stato magari quella maglietta nera con scritto Guess è un po' come se mi mettessi in canotta, lasciamola perdere, anche una camicia, ma Guess forse no? Lasciamola perdere, ma intorno a lui c'erano almeno una quindicina di persone di codazzo, insomma dieci di questi, dice Rizzo, saranno stati i poliziotti, i carabinieri, i guardi del corpo, insomma conviene che prenda un'auto blu, spendiamo tutti quanti di meno, non è lui che le richiede, ma è la situazione, quella foto col codazzo con Fico in mezzo dà l'idea plastica di come il Parlamento non sia stato aperto come una caratoletta di sardine o di tonno del Movimento 5 Stelle, ma semmai il contrario. Cosa farà oggi il PD? Lo vedremo in giornata. Furgone in Canada fa nove morti, la modalità è quella dell'Isis, sarebbe un armeno il catturato, ma non si hanno notizie a questo momento di quello che sta veramente avvenendo. Sul tema della politica poi ci sono due pagine per ogni giornale con un battage pubblicitario unico, beato lui, il film di Sorrentino. Le due pagine del fatto, le due pagine del Corriere, ma insomma io oggi ho voluto leggere Marcello Veneziani perché lo considero al di fuori di ogni giro, destro, sinistro, centro e alto e in realtà nella sua grande pezzo, lungo pezzo sul tempo non distrugge questo film tutt'altro perché è fatto da due parti, una diciamo più berlusconiana, la seconda che ancora non è stata mandata in onda e l'altra è stata fatta una preview per i giornalisti. Dice che questo è stato affascinato, dalla prima parte del film di Sorrentino, insomma quell'Italia, cocainomane, spendacciona, piene di tette e culi, è stata raccontata da Sorrentino, secondo Veneziani, in maniera gradevole, più che gradevole interessante. Merenghetti sul Corriere invece lo stronca, nessun colpo di scena. Colpo di scena invece a Torino, dove si può, primo caso in Italia, avere un figlio da due mamme, il che avveniva anche prima per una specie di ipocrisia italiana per la quale si poteva registrare in Italia un figlio di due mamme, si era stato registrato come tale nei paesi stranieri che lo permettessero. Ma proprio la legge sull'Unione Civili, come scrive oggi qualcuno, mi sembra un'intervista a Mirabelli sul Messaggero o sul Corriere della Sera, proprio la legge sull'Unione Civili esplicitamente, più o meno, diceva che non si poteva fare la step-child adoption, cioè esattamente quella che le due mamme hanno fatto a Torino. Fuori dall'epocrisia, oggi i giornali non hanno il coraggio, compreso il liberale Giannino, di dire che questa cosa che è stata fatta a Torino è contro legge. Poi dopo possiamo pensare che i diritti civili siano più importanti, però io per esempio vi faccio una domanda, ma in una mancanza completa di legge, se le due mamme dovessero separarsi, a parte tutte le considerazioni morali, etiche, culturali, quello che cacchio volete voi, se si separano, quale delle due è la mamma e quale è il papà, quale ha l'affido privilegiato, inutile che ci prendiamo per i frondelli, la donna ce l'ha sempre questo affido privilegiato, beh questo non è dato sapere. Contro legge orgogliose, perché questa è una legge assurda e oscurantista che il Parlamento non ha voluto votare, fino a prova contraria il Parlamento in un paese democratico è quello che comanda e la legge, la rule of law è quello che distingue il nostro Stato da quello che tanto odiate voi, putiniani, degli stati putiniani, cinesi, diciamo Kim Il Sung, questa è la differenza, rule of law, ti piaccia o non ti piaccia, però sulle step child adoption, pur non adottate in Italia, noi possiamo far sì che a Torino si facciano contro legge e i giornali oggi tutto sommato considerano una grande battaglia di civiltà. È più forte la civiltà di trasgredire una legge o la civiltà di fottersene di una legge in questo paese? Ditemi voi. Ciao!